Oggi è il giorno della presentazione della lista Sclocco Sindaco, una grande emozione. Sì, sono molto felice di presentare questa lista che di fatto, come ho detto più volte, si è in qualche modo costruita da sola perché ho avuto subito dopo l'annuncio della mia candidatura tantissime persone che hanno deciso di darmi una mano in questa bella sfida per la nostra comunità. Della lista fanno parte tantissime persone provenienti dal mondo del volontariato ma anche dal mondo delle professioni, dal mondo della scuola. Quindi è una lista veramente civica, molti di loro, la maggior parte di loro non si è mai candidata ma in qualche modo con il loro lavoro, con le loro passioni è sempre stata in mezzo alla gente, ha sempre cercato in qualche modo di dare una mano nella co-costruzione della nostra comunità e quindi anche della nostra città. Io sono una novità, la novità è nell'aria, come dicevo nei nostri manifesti, Pescara va migliorata, è una città che ha molte potenzialità, deve crescere per cui noi ci candidiamo proprio per questo.